che vagava uno dei nostri maestri di quando frequentavamo, da giovani, capelloni, ricci, i corsi di altissimo perfezionamento circense di Porto Gruaro, provincia di Pordenone. E in quell'occasione l'Istituto Santa Cecilia, che ci ha laureati appunto come altissimi... No? Va tussico, non so come chiudere i miei altissimi. E uno dei nostri maestri è qui con noi e ha accettato di suonare insieme a noi un brano della sua tradizione. Lui è un grandissimo virtuoso del suo strumento, ha una tecnica così sopraffina che è veramente molto difficile. Cioè, proprio i fotogrammi degli occhi non riescono a fissare le dita che continuano, capito? E lui è il docente dell'Accademia Nazional Popolare di Brzlöv, nell'Europa dell'Est della Transilvania. Signore e signori, un grandissimo ritorno insieme a noi, il maestro, il nostro lume, il nostro faro, il maestro Milos Karaskristovic. Maestro. Bravissimo, maestro. Maestro, 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 maestro. Da questa punto. Si metta qui. Pensate che quando noi eravamo quattordicenni a Portogruano, lui aveva 89 anni. Per cui portate pazienza, vedete questo suo... Lo usa anche per suonare, alle volte. Signore e signori, questo brano che ci ha portato oggi pomeriggio, l'ha pulito recentemente. Dal titolo emblematico, Balkan Burger, un tripudio di Micette. Signore e signori, il maestro, Milos Karaskristovic, domanda praspita. Grazie. Grazie. Applausi. Grazie. Applausi. Grazie. 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 Grazie.